E bella a tutti ragazzi E bentornati in questo nuovissimo video Andate a vedere il video di coppie con un mio amico Che abbiamo fatto un fail assurdo Abbiamo startato la registrazione e manco la sapevamo C'era Si può essere più scemi di così? No Esatto Ah comunque siamo in compagnia di Matti Bella E oggi facciamo sempre una copia come il sonico Beh giusto Ah ragazzi tra l'altro la Epic Games hanno dato appena tutti il piccone giù le stelle mi sembra Come si chiama Matti? Si giù le stelle No tiro alle stelle Ah E ragazzi adesso ve lo faccio vedere Guardate qua Cioè guardate Guardate la scia Davvero bellissima Un po' leggendario GG E ringraziamo la Epic per questo bellissimo regalo Davvero bello E' fatto benissimo Esatto Quello E c'è la suona E' la disattivo che se no mi danno copyright Ma no Ma ce n'è uno che vuole Ti giuro che mi danno copyright Meglio di no bro Meglio di no Ragazzi anche un rumore E' davvero bellissimo Camion Occhio che ti fa un botto di danno L'ho notato Mi ha così preso Ma c'è un team E io sto facendo Spider-Man Bravo Così che si fa Esatto Spider-Man si risolve Oddio Forse adesso anche a killarli Arrivo E io ci sono una R Però una ha pochissima vita Un atterrato Però mi ha fatto malissimo E occhio E' qua dietro Vabbè ciao Non me ne vado Mi distorcio No matti matti No ragazzi Ma stavolta puoi controllare Che stai trattando la registrazione Eh sì sì Stordo è partita la registrazione Eh ragazzi mi sono dimenticato di dire questo Allora iscrivetevi e lasciate like E attivate la campanellina Per non perdervi altri fantastici video Tipo come quello del fail Che è stato il più bello E' anche gli altri E' anche gli altri E' anche gli altri No no Anche quello di salvo al mondo Che ho truffato E' molto bello Bene 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 Siamo morti malissimo Esatto Perché c'avevo solo una R Poi ragazzi porterò anche altri contenuti Tipo come Apex Legends Poi quel video ci avevo veramente L'abbiamo fatto proprio a casa Cioè non sapevamo che era startata la registrazione Non ho messo neanche la intro Comunque il nuovo piccone è davvero bellissimo Matti guarda Cosa? No niente C'era un player un po' bambiato Ah Andiamo a siepi Ah ok Ah ok Andiamo a sabbie Andiamo a sabbie Ok Perché mi invitano Ti ha invitato l'oli vero? Già Beh comunque del tablano Con il meteorite Con il piccone meteorite E' bello E' con fade Che è ancora E' fade E adesso si va piccone Ma sembra Si l'ha ucciso piccone Si merita proprio questo Lui E' anche altro Cioè praticamente avevamo due caccia Lui ne aveva preso uno E io ne avevo preso uno E ci siamo scontrati Fa caccia Ok ragazzi Le armi non sono quelle le migliori Ah però Uh cassa leggendaria Ho sentito Rega Poi dimmi cosa trovi Ok Poi c'è uno scudino Ah ma tu sei già full Su c'è ancora uno scudino io Anche io Eccola qua La cassa leggendaria Una pistola Che palle Family Friendly Eeeh Si Certo Cioè intendevo Le falle da calcio Ovviamente Si si ovviamente Cioè ho trovato Nella cassa leggendaria Una pistola In una cassa normale Log leggendaria Io non ci credo Ma Vabbè Non potrei essere lì in controllo Eh appunto Ho visto un player Correre via In seguito E mi è scomparso Uh miseria Ma lo scudone Ma sta stanza A che serve? Non lo so L'hanno messa a casa E' uno squallo Che vola con un player A che serve? Ma dov'è la cassa? Ah qua 20 Ho visto un player Volare via Ha giampato contro di me Qua c'è una box fight Ma io non ho Un pompa Lui ce l'ha E anche lo squallo Vabbè Niente L'ho lasciato con 2 HP Ah tipo 2 HP Eh arrivo Matti Qui c'è lo squallo Allora 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 Aspettato solo un attimo Ragazzi Ok ci sono Allora Dov'è la gente Matti Dov'è la gente? Dov'è la gente? Dov'è ancora qua Alto destro Eccolo Madonna Mi alaserò Spamone Eh uno spamone Ah ma è un vampa leggendario Ma lo dove? Vabbè Laga Abbiamo fatto schifo Però spero che questo video Vi sia piaciuto E da me Da Matti Bella Bella Allora 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 Allora